amici buongiorno ciao oggi vi voglio parlare di posti particolari dove dormire vi porto in olanda nella regione della frisia e più precisamente nella città di arlingen qui è possibile dormire in una gru portuale questa si chiama arlingen arbor crane ed è stata costruita nel 1967 alta 50 metri e per trent'anni è rimasta in funzione a spostare container da una nave all'altra dopo un paio di anni di restauro è stata trasformata in un'insolita sistemazione per due persone gli stessi ospiti possono scegliere quale vista godersi della gabina che è situata a 17 metri da terra appunto potendo controllare loro direttamente con un joystick la direzione e la rotazione per raggiungere la stanza si sale attraverso uno dei due ascensori in quella che era la sala macchine ora sono sistemati un letto matrimoniale un bagno con doccia e delle poltrone di bel design da lassù è possibile ammirare il mare di waden patrimonio unesco per il suo valore naturale patrimonio che con che è condiviso tra danimarca germania e appunto i paesi bassi con la bassa marea è possibile raggiungere a piedi ovviamente con delle guide specializzate alcune delle isole frisone che comunque sono sempre raggiungibili anche in traghetto per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima ciao ciao